Noi abbiamo deciso da oltre dieci anni di sostenere il progetto del Banco Alimentare perché ci sembra un'idea molto intelligente, efficace e solidale, cioè cercare di aiutare le persone che hanno più bisogno attraverso la consegna di prodotti alimentari in particolare che possono essere destinati per famiglie che sono in difficoltà o che hanno esigenze di avere alimenti tutti i giorni. Da sei anni lo fanno anche i nostri colleghi, cioè collaboriamo col Banco Alimentare e noi stessi raccogliamo bene i prodotti che poi vengono consegnati. Da qualche anno abbiamo anche iniziato la raccolta dei computer dismessi che non utilizziamo più e che vengono destinati ad associazioni di volontariato che li possono usare per la loro attività. Quindi ci sembra un modo meritevole, intelligente e lungimirante per fare sostenibilità.